allora voglio disegnare con solito questo oggetto che farò apparire qua a destra ok sembra che sembra quasi un pedone un pedone da gioco degli scacchi e però con base esagonale dunque cominciamo andiamo a innanzitutto materiale che è un alluminio ok dunque andiamo sempre leghe di alluminio 3 3 5 4 9 ok questa qui applica e chiudi ok vado sul mio solito piano frontale vado a fare l'esagono l'esagono lo trovo naturalmente nel poligono qui vado qui naturalmente col mio punto centrale mi sposto e vado adesso a a mettere che questo è un esagono con lato 26 ok lato 26 questo contro questo lo metto orizzontale o vabbè potevo mettere anche questo semplicemente orizzontale a questo punto vado su funzione estrusione e vado su di 10 10 clicco 10 faccio invio a questo punto mi metto qua su questo nuovo schizzo vado con l'esagono vado in centro mi sposto e l'esagono e diametro il cerchio diametro 36 e vado su funzione estrusione va su di 16 16 ok a questo punto diciamo diventa un aspetto più interessante siccome il disegno non è chiarissimo nel senso che allora mi conviene fare prima la sfera di diametro 20 che è distante 18 dalla base dunque per fare mi devo per forza mettere su un piano o questo adesso vado col maio sul piano superiore o sul piano destro andiamo sul piano superiore andiamo a fare un cerchio e dunque vado a semplicemente disegnare un cerchio ok così mi sono dimenticato di mettere la quota vado a mettere che diametro 20 ok 20 ok ed è a una distanza in cerchio da qui a qui di di quella lì 18 caspita perché dovevo prenderlo su 18 lì dunque cancello faccio ask vediamo se riesco a spostarla ma sarà difficile vediamo se riesco a spostare questa qua no non mi risposta ma ok e questo qui sarà 18 18 naturalmente non ho ne ancora nera perché manca questa caratteristica fondamentale che questo contro questo col centro sia verticale diventata nera tiro una riga per fare la rivoluzione se no solidox non capisce ok e vado a fare soluzione rivoluzione estrusione base rivoluzione ok l'asse di rivoluzione è questo tiro via funzione sottile importante e metto questo qua e questo è il mio è la mia nella mia sfera ok e dunque sono in questa posizione qua adesso io devo andare a capire come fa questo questo il raccordo tra questa sfera e questo oggetto qua dunque questo punto l'unica e ancora per essere precisi andare a fare una risoluzione dunque mi metto per esempio ancora sul piano superiore ok così ce l'ho davanti e vado a cominciare a disegnare piano superiore vado a fare nuovo schizzo comincio a disegnare una cosa del genere parto da questo punto vado in mezzo vado su in centro andiamo a cercare se mi dà il centro ma non me lo dà comunque eccolo qua il centro perfetto e io a questo punto però andrei un attimo a vedere dove va dove decidiamo che perché dobbiamo decidere che lì non si capisce molto bene allora io disegnerei un un arco di cerchio anche se sembra che sia di questo tipo qua cioè questo il centro questo il punto e vai così ok io lascerei per adesso così ok una roba del genere da questo disegno si capisce che questo contro questo è sulla linea ok dunque il cerchio è lì io per facilità vado a fare convertentità così ce l'ho lì questo qua sicuramente andrà qui e sicuramente questo contro questo devono essere tangenti ok e dunque lì adesso lui in automatico ha trovato per lui è in automatico perché probabilmente il fatto che questo sia su questa linea implica la tangenza qua e dunque in automatico io l'ho trovato ok potrei andare qui fare così posso andare a tagliare o anche senza andare a tagliare però andiamo a tagliare così e dunque ho la rivoluzione volevo vedere una cosa questo centro poi dove fosse ok tanto per curiosità andiamo a vedere questo centro qua qua però vabbè vediamo e questo qua intanto una curiosità tanto per sapere che ah ok tanto per vedere che era che viene fuori un 9,79 come raggio circa un raggio 10 vabbè ok a questo punto io cosa faccio faccio semplicemente una rivoluzione funzione estrusione di base e rivoluzione ok la linea lui mi ha preso questa perché ho messo quella là naturalmente invece io non voglio quella là ma voglio questa qui perfetto ok in questo modo ho fatto il pezzo andiamo a vedere il peso dunque strumenti valuta proprietà di massa e mi risulta che è 110.01 spero di essere stato utile ci vediamo la prossima arrivederci grazie a tutti